Ragazzi Adopt Me ci ha ascoltato, finalmente arriva il criceto tra i pet di Adopt Me ragazzi Tra i nuovi criceti e sono pronta per spiegarvi tutto E se anche voi amate i criceti e non vedevate l'ora di questo pet su Adopt Me Lasciate un mi piace adesso now subito Io ovviamente mi sto riprendendo dal più grosso e terribile raffreddore del secolo Sperando che questi cerottini mi facciano respirare meglio Spoiler no, però io ci credo e ci provo lo stesso Questo mese il raffreddore mi ha dato letteralmente una botta dietro la testa Questo è il primo giorno che sono di nuovo viva da venerdì Credo sì, penso da venerdì Oggi è il primo giorno di vita che ho Ma ci connettiamo per il 1237 giorno Prendiamo 50 bocci Max, nonostante io fossi malata e non mi sentissi bene Ho comunque fatto gli accessi ad Adopt Me Perché sì essere malati, sì non sentirsi bene Ma perdere l'accesso ad Adopt Me, questo mai e poi mai Allora stiamo facendo crescere una bella luna Sì, una bella tigre lunare perché voglio farle neon e queste qui me le sto facendo Me le sto crescendo praticamente da sola Giusto per fare qualcosina di soldi E quindi sono beccato da entrambi i posti i soldini Come missioni ho invecchia un pet, ricevi un ultra raro e colleziona un pet, un toy, uno stroller e un veicolo che non è ancora nel mio inventario Può essere che riusciamo a fare la missione del pet Perché appunto questa settimana ragazzi arriva il cresceto Vi giuro ragazzi quando io ieri sera ero a letto Erano le 6 e mezza, sì ero a letto Non mi sentivo che come si è già detto E moribonda E ho letto cresceto No vabbè, allora Desert Egg che va comprato sempre e tutto Perché raga a me mancano due pet nell'inventario Esattamente due pet Poi ho tutti i pet di Adopt Me Per il mio momento mi manca lo scorpione giallo Che esce appunto dal Desert Egg Uh questo che l'ho scambiato e lo dobbiamo ricomprare Un secondo, aspetta È uscita la missione della doccia Ok non me la sono persa Questo a quanto pare bisogna comprarlo perché non ce l'avevo Va bene, me ne compro uno giusto per sicurezza Riprendiamo il Desert Egg E poi mi manca come dicevo Scendendo scendendo Il Guardian Lion È questo Quindi no vabbè me ne mancano tre Questo sono piuttosto sfiduciosa di riuscirlo ad ottenere tramite trade Raga Poi resterà nel gioco praticamente una vita Quindi secondo me abbiamo tempo per ottenerlo Quello lì io non l'ho scambiato Per questo non ce l'ho più Allora ovviamente io sono nel server della vita Quando io non devo fare scambi Cioè pensate un pet bello, bellissimo È in questo server Va bene, grazie a tutti Veramente grazie, grazie, grazie Grazie a tutti Allora raga Questa settimana quindi Scusami ragazza Ti ho costruito la casa addosso Mi devi scusare Allora questa settimana quindi Ci sarà un piccolo aggiornamento Che prevederà Criceti I criceti restano per sempre Da quel che hanno detto I criceti restano per sempre Arrivano questa settimana Ma purtroppo ragazzi Saranno un pet robux Il biscotto che servirà Per catturare i criceti Costerà robux Come il biscotto per i pinguini Per i king penguin Che si trovano Lì Lì No Qui si trovano le api Che comunque si comprano con i robux Nella gelateria ci sono i pinguini Che si comprano con i robux Mentre nello shop lì Del supermercato Ci sono le coccinelle Che si ottengono anche in quel caso Con i robux Quindi questa volta Aggiungeranno Una nuova sezione All'interno della mappa Una nuova sezione All'interno del pet shop Quindi qui dentro Aggiungeranno Una nuova sezione Qui dentro Dove ci sarà Il set Per catturare i criceti E quindi ragazzi Si comprerà Si comprerà il biscotto Per i criceti Il mais Per i criceti Si lancerà E come le coccinelle Le api E tutto il resto Ci sono tre tipi Quindi ragazzi Con un solo aggiornamento Inseriscono tre nuovi pet Tre nuovi criceti E spoilerissimo Io sono altamente innamorata Della versione base Le ho già vissi Sono tipo la cosa Più bella e kawaii Del mondo Con delle guanciotte Che ti viene voglia Di squazzare Quindi si ragazzi E in live Cercheremo di ottenere Tutti i criceti Del mondo Proprio Cercheremo di ottenerli Tutti Oltre quelli Che dovrebbe darmi Adopt Me Poi per fare i video Io non andrò via Da non chiuderò La live Se non riesco Ad ottenere Almeno i leggendari Tutti i pet Proprio tutti Tutti Poi ci sarà Anche un'altra parte Di aggiornamento Dove Aggiungeranno Anche qualcosina Per Qualcosina Per L'esposizione Dei pet Però non ho ben Cor capito Però non vi preoccupate Ci schiudiamo Questo egg Ce li andiamo Su Youtube Sul canale ufficiale Adopt Me A vedere I loro video news E poi Twitter Vi faccio vedere I criceti Come si deve Non vi preoccupate Non vi preoccupate Ragazzi ma voi Questi cerottini Così per il naso Per respirare Li avete mai utilizzati Perché Allora Io li ho comprati Ieri L'ho utilizzati Per la prima volta Stanotte E meh Mi sembrava Di respirare Un po' meglio Non so Adesso ho provato Durante la giornata Pur di non fare Lo spruzzo Per il naso Perché vorrei Ragazzi scorpione Pensavo Che Fosse la cosa Di collezione Un pet Invece È invecchia Di un livello Ero sicurissima Che fosse Lo scorpione E invece È il mostro Di Allora Tiriamo fuori La nostra Tigre Oh Questa qui Adolescente Che non è che Mi interessa tanto Cambiamo Nel nove Cambiamo Le normali Allora Questa qui Adolescente Ho questa qui Pre-adolescente Ho questa qui Giovane Si chiama Luis Ma ok E poi Ho Questa qui Sempre giovane Quindi io andrei Con questa qui Adolescente E continuerei A far crescere Questa qui Adolescente Ce ne ritorniamo a casa Ci chiudiamo dentro La mettiamo a dormire Perché così Evitiamo Gameplay Vorrei fare Il fatto che Non mi segue No Ecco qua Così rimarrà A dormire E non ce l'abbiamo Nelle orecchie Che fa E E E E Ragazzi Ce ne andiamo a vedere I vari video Non ho arredato ancora Questa casa Perché non ho un euro Ma prima o poi L'arrederemo Sto cercando un letto Non riesco a trovarlo Ed eccoci qui C'è Jesse Con il fantastico cappellino Lo skateboard Qui su E a livello di plasci Non vedo nulla di nuovo Quindi va benissimo Così Hamster Are coming Weekly news Cioè ragazzi Ma quanto tempo È che noi Chiediamo Ad Adoptme Di farci avere Dei Criceti Cioè mi sembra Assurdo Jesse Sta arrivando Un grandissimo change Un grandissimo cambiamento All'interno del pet shop Questa settimana Non preoccupatevi Tutto ciò che si trova All'interno del pet shop Resterà lì Quindi nessun pet Va via Stiamo Modificheremo Qualcosina all'interno Per fare spazio Ai creseti Oh che carino Da giovedì potrai incontrare Nailus Come si chiama Da giovedì potrai incontrare Niles Il capo Il leader Di questi cresceti Avventurosi Che bello Allora bisognerà comprare Il golden corn Per 199 robux E poi lanciarlo Per avere La versione Cioè raga Raga Allora Ok Questi sono i tre cresceti Questo è sempre inquietante La versione d'amante Ma abbiamo La versione base Che ragazzi Io cosa devo fare Per avere questo Antaro Perché si chiama Rantaro Già deciso Poi c'è Il leggendario dorato Che anche ci sta Bellino E' tipo una versione albina Cioè una versione Un po' più carina E coccolosa Però Ok E poi c'è quello Inchietantissimo Quello dorato Quello diamante Che sembra fatto Tipo di adamantio Non lo so Ma Ok Non ci sarà Una fine Di quell'evento Ovvero Aggiungono E restano per sempre Quindi hai tantissimo tempo Per adottare Il tuo cresceto preferito Inoltre Aggiungeremo Tre nuovi stand Di display Per mostrare Il tuo pet preferito Abbiamo Questi qui Glaciali Royal E Ghiaccio Ok Sono carini Ma Io non li utilizzo Però sono molto 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 carini Paccone Letteralmente Perché In america Cambia L'orario Mentre qui In europa Ancora no A fine mese Da noi Cambierà Mi sembra Proprio domenica Proprio a pasqua Quindi l'aggiornamento Uscirà un'ora prima L'aggiornamento Uscirà Alle 4 Invece che Le 17 Wow Quindi live Prima Il film Non mi dispiace Mi dà più tempo Per fare cose Mi piace tantissimo Che l'aggiornamento Sarà alle 16 Quindi noi Alle 4 Meno un quarto Saremo In live Ok Poi ci andiamo Su countdown Ok Ok ragazzi Ok Quindi poi si parla Di fan art Contest E così via Che hanno fatto Su discord Ok raga Sentite Questo criceto È tipo La mia vita Lo amo E voglio Portarlo a casa Nella vita reale Voi cosa ne pensate Fatemelo sapere Se ci andiamo A vedere la miniatura Abbiamo Nailer Qua che è tipo Super avventuriero Super Eppip E poi abbiamo I vari stand Fuoco Ghiaccio E royal Io non sono un amante Degli stand Però voi Li utilizzate Fatemelo sapere Su twitter Possiamo vedere Un close up Dei vari stand Questi qui Sono quelli lì Magma Quelli lì Fire Non sono male Però non è che Mi interessino molto Poi abbiamo Quelli lì Glaciali Che anche sono Molto molto belli Ricordano molto I diamanti Mi piacciono Comunque sono Molto carini E quindi Questo è Il countdown It's hamster time Tra due giorni 16 ore 16 minuti E 30 secondi Perché il 14 marzo Giovedì Alle 16 Ci sarà L'aggiornamento Il che vorrà dire Che noi Giovedì Alle 15 E 45 Saremo In live Sul canale Prima di andare Però dobbiamo Ringraziare Due dreamer Di platino Che si sono Riabbonate Abbiamo Gabri Che si è Riabbonata Per il 13 Mese di fila E poi abbiamo Stella Latona Che invece Si è abbonata Per il 15 Mese di fila Grazie mille Ragazze Grazie 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 mille Un mega Per il supporto Che mi state mostrando Da più di un anno Un mega Extra bacione Per voi La mia voce Sta andando via Il che vuol dire Che devo chiudere Il video E quindi Tu clicca qui Sulla live Per andare ad attivare Il pro memoria Per non perdere La live Appunto Verrai avvisato Mezz'ora prima Mentre clicca qui Per iscriverti al canale Se ancora non sei iscritto Io ti saluto Ci vediamo domani Con un nuovissimo video E mi raccomando Non smettere mai di sognare Ciao